Questa settimana abbiamo giocato a 9 titoli diversi E uno di questi, cioè, poteva essere bello ma... Ciao a tutti giocatori, giocatrici, semplici e curiosi Noi siamo Giullari, vi diamo il bentornato nella nostra mansarda per il nostro diario di board game ovvero tutto ciò che abbiamo giocato nella settimana appena trascorsa come sempre un grazie speciale a tutti coloro che ci supportano su Patreon e vi lasciamo un link qua sotto per scoprire quali contenuti esclusivi potreste avere se anche voi sceglierete di supportarci e se vi va lasciateci un like alla fine del video se vi sarà piaciuto E dei titoli che abbiamo giocato vi abbiamo già parlato di Kariba, T4-2, Botanic, Star Reams, 21 giochi minuti, Fairy Tail Inn e Cluster E quindi iniziamo subito col parlarvi di ciò che rimane ovvero di San Francisco Novità di Asmodee Italia gioco di Rainer Nizia ambientato per l'appunto a San Francisco negli anni dell'urbanizzazione della città quindi inizio degli eventi noi siamo degli urbanisti chiamati a costruire quartieri di San Francisco erigendo grattacieli e cercando di strutturare nel miglior modo possibile il nostro quartiere ci metteremo dei vigili, mille vigili le regole sono molto semplici ma e quindi la prima partita magari uno lo gioca un po' prendendolo sotto gamba perché noi al nostro turno possiamo rivelare una carta oppure prendere le carte che sono state rivelate e piazzarle quindi inizialmente magari non sapendo ancora benissimo le varie funzioni come prendere gli obiettivi come fare punti ah sì questa mi piace vedo che potrebbe darmi dei punti la piazzo la particolarità è che comunque le carte vanno piazzate in un certo ordine non le puoi mettere sulla tua plancia come vuoi ma bisogna partire da sinistra e poi man mano riempire la tabella verso destra quindi man mano che si va avanti ti ritrovi a dei piazzamenti che tu pensavi fossero furbi ma così furbi non erano il fatto è che in San Francisco i punti sono veramente molto molto pochi quelli che farai e anche solo un mezzo punto perché alcune cose ti potranno dare anche solo un punto e mezzo ad esempio quel mezzo punto può fare però veramente la differenza alla fine della partita questo perché i quartieri che noi andremo a piazzare le carte che noi andremo a piazzare sulla nostra tabella non ci daranno direttamente punti vittoria ma si farà un gioco di maggioranze diciamo che avrà per ciascuno dei quartieri delle cinque righe dei cinque colori che abbiamo sulla nostra plancia farò punti che avrà la maggioranza di ingegneri stampati su quelle carte il fatto è che alcune di queste carte magari ti possono valere di più ma solo se sei riuscito a collegarli tramite la linea ferroviaria dei tram dei cable car di San Francisco e quindi bisognerà anche cercare di mettere sì tessere di valore ma anche magari tessere con strade che ci permetteranno quindi di allargare la nostra tratta le nostre rotte dei nostri cable car e allo stesso tempo ci saranno anche delle carte con delle fondamenta che ci permetteranno di erigere su queste tessere il proprio i grattacieli che varranno un punto ciascuno quindi tanta roba più un punto per chi ne avrà la maggioranza però per riuscire a farlo vuol dire che le tessere attorno devono essere di grande valore bisognerà che la somma dei valori delle tessere attorno sia almeno 7 e non è sempre così scontato così facile riuscire a metterle noi non saremo mai obbligati a costruire ciò che prenderemo però poi non è detto che arrivino poi effettivamente delle tessere che ci possano servire per il nostro scopo oppure se queste tessere arrivano l'altro giocatore potrebbe anche togliertele e vedi che c'è una carta che ti potrebbe far mettere il palazzo magari a lui quelle carte non servono, gliene serve solo una o non gliene serve nessuna però puoi tranquillamente togliertele e così tu rimani fregato anche perché ciò che noi prendiamo non siamo obbligati a costruirlo possiamo scegliere tranquillamente di scartarlo c'è una meccanica un po' particolare che in due giocatori funziona ma non è così ottimale secondo noi che evita però quando si gioca in 3 e 4 che un giocatore prenda a largo e diciamo cerca di frenare chi in quel momento è avanti, chi ha già costruito di più perché ogni volta che costruiremo prenderemo un contratto e quello determinerà la quantità minima di carte che ci deve essere in una colonna finché noi possiamo prendere quelle carte quindi se io ho già tre contratti ovvero ho già costruito tre volte non potrò prendere carte finché in una colonna non ci sono almeno quattro carte quindi risulta più difficile per quel giocatore riuscire a continuare a costruire e velocizzare in quel modo la partita e cerca di appianare un po' le cose in due giocatori funziona un po' di meno perché nel momento in cui però tutti i giocatori hanno almeno un contratto allora tutti ne scartano uno di modo che ci sia sempre un giocatore che non ne abbia nessuno e in due giocatori fai un po' di tira e molla perché io costruisco ne prendo uno poi costruisce Vale allora tutti ne scartiamo uno e resti sempre un po' in quella situazione comunque capita di avere tre contratti e l'altro non ne ha nessuno quindi si può anche da ultimo diciamo a aspettare continuare a far costruire l'altro per poi avere più scelta avere più carte e aspettare la carta che effettivamente ti serve quindi può anche capitare però forse in due giocatori questa cosa si sente un po' meno come anche solo se si gioca in quattro ci saranno anche dei punti negativi che girano chi avrà il minor numero in ciascuna riga nel calcolo delle maggioranze a fine partita che invece in due o tre giocatori non c'è però anche in quel caso un giocatore che fa punti e uno che non ne fa comunque capita un po' la stessa cosa di quel meno uno quindi un gioco si tattico perché comunque dipenderà molto dalle carte che escono non è complicato giocarlo però poi riuscire a incastrare tutto comunque ti dà una bella sfida il gioco è comunque veloce non ha una grafica particolarmente eccezionale diciamo così è molto minimal molto minimal è anche molto astratto però ha lo scopo del gioco da quel punto di vista però anche palazzini in 3D però il suo lavoro lo fa a noi non è dispiaciuto è molto gnizia si sente in questo gioco quindi pochissime regole molto semplice però difficile incastrare bene tutto e con pochi punti da fare e si vince veramente proprio per mezzo punto anche per mezzo punto alle volte è la miseria abbiamo poi giocato ad Amelia's Secret Amelia's Secret gioco che ci ha inviato Cranio Creation dall'ambientazione che a me veramente piace tantissimo perché è un horror praticamente a realtà aumentata quindi la descrizione noi siamo all'interno di un maniero questo maniero ha dei misteri ovvero è scomparso una bambina la mamma di questa bambina si è tolta la vita e noi all'interno di questo maniero ad un certo punto entriamo succede un qualcosa le porte ci si sbattono ci chiudono dentro e noi dobbiamo cercare di uscire da questa villa infestata dai fantasmi in realtà aumentata perché è un gioco che utilizzi principalmente un dispositivo che può essere un tablet un telefono avremo delle carte che andranno posizionate in giro per la casa ed è una cosa che va fatta quindi ad esempio ci sarà il comodino che andrà messo in uno spazio a 70 cm d'altezza piuttosto che lo specchio a un ritratto un metro e mezzo e va fatto perché noi abbiamo pigramente abbiamo detto ma si le mettiamo sul tavolo e le riprendiamo con il cellulare dal tavolo ma non funziona non funziona così bene va proprio fatto fallo fallo all'interno della scatola infatti voi avrete soltanto un piccolo regolamento che in realtà ti introduce un pochino la storia e poi queste carte degli arcani sui quali sono disegnati in modo un po' stilizzato i vari oggetti che ci saranno all'interno della casa li andiamo a disporre per tutto ciò che va appiccicato alle pareti c'è già anche la patafix all'interno della scatola che così è comoda per poter appiccicare i muri senza rovinare né carte né muro o la superficie sulla quale la state andando ad appiccicare fate partire l'applicazione e avete due possibili storie un piccolissimo tutorial che dura veramente 5 secondi e ti fa capire come interagire con gli oggetti dopodiché noi iniziamo a girare per la stanza e inquadrando con il nostro cellulare con il tablet queste carte arcano vedremo in realtà aumentata l'oggetto che compare e potremo interagirci cliccando sullo schermo del cellulare vedere magari appunto se dobbiamo inserire delle cifre se magari col telefono dobbiamo andare a comporre un certo numero piuttosto che utilizzare oggetti che troviamo su altri oggetti sul lavandino sul camino sul comodino piuttosto che sul portagioie per aprirli e ottenere nuovi oggetti con cui andare avanti con l'avventura allora il gioco prevede due modalità una modalità che dura 20 minuti e l'altra che ne dura 60 quindi un'ora noi abbiamo fatto prima quella da 20 minuti e poi quella da un'ora consiglio se prenderete il gioco fate direttamente quella da un'ora sì perché? perché gli enigmi gli enigmi poi parleremo anche più profondamente degli enigmi comunque le cose da risolvere sono uguali quindi se fate quella da noi pensavamo c'è quella da 20 minuti usi gli oggetti li combini e trovi delle cose è boh facendo quella da 60 minuti ne trovi delle altre in realtà sì ma molte cose sono uguali sì esatto ci sono alcune cose le risolverai nello stesso modo magari ti cambierà solo che il certo oggetto anziché trovarlo nell'orologio a pendolo lo troverai nel camino piuttosto che nel cassetto ma ti servirà sempre esatto devi fare sempre più o meno le stesse cose addirittura un paio di enigmi li risolvi proprio nello stesso identico modo e sì quella da 60 minuti ha un pezzetto in più ha una parte in più di un arcano che non utilizzi nella cosa da 20 minuti lo utilizzerai in quello da 60 e ti sblocca un nuovo pezzetto diciamo di di storia che si conclude in realtà anche in quella da 60 minuti mentre in quella da 20 ti dice ah non hai ancora risolto il mistero gioca quella da 60 la giochi ma rifai per un pezzo le stesse cose per poi concluderla con questa piccola parte aggiuntiva che c'è il fatto è che pur avendo dei bellissimi presupposti a noi non è piaciuta per due motivi principali il primo motivo è che effettivamente giochi tutto quanto solo ed esclusivamente sul tablet sul telefono sul dispositivo che stai usando però quello lo si sa diventando sì però diventa quasi più un videogioco che non un vero e proprio gioco da tavolo non dovrai mai tipo che ne so ah prendo l'arcano del telefono e lo metto sopra l'arcano del comodino e capitano delle cose questo no anche la stessa realtà aumentata non è fatta proprio benissimo secondo me ogni tanto magari degli sfarfalli hai le cose che si muovono un po' o magari anche se sul muro te la fa vedere ribaltata in orizzontale ed è un po' scomoda questa cosa però vabbè ci si passa sopra facilmente la cosa che un po' ci ha deluso è la grandissima semplicità della storia in sé il fatto è che non hai mai dei veri e propri enigmi cioè proprio a livello di enigma ce ne sarà proprio un paio ma che sono proprio molto molto semplici della serie guardi su un arcano ti farà vedere quattro lettere scritte e quelle quattro lettere te le chiederà un altro arcano la macchina da scrivere ci clicchi sopra puoi inserire quelle quattro lettere e sarà quello da fare cioè non hai nessun tipo di ragionamento da fare è proprio solo più un capire in che ordine guardare questi arcani e uno te ne fa sbloccare un altro che ti darà l'oggettino che ti fa sbloccare e il terzo che ti darà l'oggettino che ti fa sbloccare il quarto fine proprio molto molto lineare tant'è che la prima quella da 20 minuti l'abbiamo risolta in una decina di minuti ma perché dopo aver iniziato con tutti gli oggetti sul tavolo abbiamo detto vabbè aspetta appiccichiamoli in giro abbiamo perso 5 minuti e l'abbiamo finita quella da un'ora l'abbiamo risolta in 18 minuti stando proprio all'app complimenti hai finito l'avventura tra l'altro 18 minuti di cui almeno 5-6 sono di filmati e di voce che ti racconta che cosa sta succedendo quindi di gioco vero e proprio ce n'è stato veramente pochissimo se è bella fatta come ti suggerisce anche proprio lo stesso regolamento magari di dire addobba tutta casa metti le aragnatele distribuisci in giro questi oggetti usa al massimo la torcia del telefono per girare ok con una serata con una coppia di amici che si vuol fare la serata un po' horror ci sta un altro aspetto anche che non mi ha fatto impazzire che in quella da 20 minuti un paio di enigmi a lettere comunque parole che devi inserire è in inglese non c'entra niente ok perché comunque potrebbero essere 4 simboli 4 geroglifici da inserire e sarebbe la stessa cosa sono in realtà 4 lettere però che si rifanno a parole inglesi e che boh non mi ha fatto proprio impazzire anche questo questo aspetto un po' un peccato un po' un peccato perché ci aspettavamo qualcosa di più comunque la storia è intrigante comunque cioè no la lamentazione i filmati alcuni sono veramente horror quindi si hanno un po' di delle cose che ti danno un attimo di anche bello vedere l'immagine che poi vabbè quella del tutorial per esempio inquadri la mano mozzate c'è sta mano tipo zombesca che si muove che ti esce dalla carta e si muove cioè tutte le cose è carina come idea ok è un bel concept però poi davvero uscire dal maniero è proprio come ho trovato la chiave sul tavolo apro la porta esco cioè non c'è stato esatto e non è questione secondo me che noi ne abbiamo fatte tanti di escape room abbiamo e perché è proprio semplice perché non hai proprio enigmi secondo noi anche chi enigmi di per sé non ce ne sono è proprio solo un cerca l'oggetto si trova l'oggetto mettilo dove va messo perché poi non è neanche che ne so trovi una chiave e oh questa può essere messa in cento posti diversi chissà in quale no c'è una serratura sai quei che va di e quindi quando è finita abbiamo detto ok già finito cioè no aspettiamo magari c'è un qualcos'altro che adesso inizia e invece no e lo so ragazzi che volete e finisce così la nostra settimana lunica ma prima di salutarvi vi ricordiamo come sempre che lunedì è uscito il nostro gameplay di risico antartide quindi se non l'avete ancora visto andate a recuperarlo perché ce ne sono veramente delle belle perché non dite ah ma i risico andatevelo vedere voi guardate e poi giudicherete e poi giudicherete non a prescindere esatto e poi mercoledì è uscito il gameplay di San Francisco di cui vi abbiamo parlato anche prima quindi andate a vedere la nostra sfida andate a vedere chi è stato il miglior urbanista e noi come sempre vi ringraziamo vi ricordiamo che siamo su tutti quanti i social quindi per avere contenuti esclusivi approfondimenti unboxing live con noi seguiteci su tutti quanti i nostri social noi come sempre vi ringraziamo vi ricordiamo che qui a casa giullari si gioca per giocare i giullari vi salutano e che il gioco sia con voi ciao ciao ciao